cari amici youtubers e benvenuti in questo video bando licenza cominciamo subito dai ho avuto la buonanotte su ma che io? eh si tu vabbò al pubblico di youtube di maxart vi volevo fare buonanotte vi volevo dire ma voi non vi sbagliate mai mi sono fericicato a mannaggia vi volevo dire se volete che maxart ricominci a fare i ricretti del medicina ma non lo so questo casino che c'è in peri mannaggia la misericordia non si capisce più niente a maolo metto il campanino sotto il mazzo accia misericordia per essere uno ve ne devo andare e mo che cacchio sto a dire ma voi non vi sbagliate mai vi capite mai di impicciarmi ahn ciao no mi suonano buonanotte a tutti eh ciao eh buonanotte vabbè buonanotte anche da me grazie per aver visto il video e mi raccomando commentate se volete ancora le direte medicina al mercoledì nonostante tutto quello che c'è in piedi perchè mi sto organizzando per nuovi argomenti e vabbè grazie a tutti e guardate un po' chi c'è dietro Milly, chi ti ha detto di entrare in un quadratore di video? Oh, c'è sta pure il gatto nero! Mamma mia! Oh, ma che pazza, quanto è bella! Non vedi? Oh, c'è la miseria! Oh, c'è sta pure il gatto nero! Mamma mia! Oh, mamma mia, mi porterà mica stile! Oh, ciao! Ciao!